Quarta corsa premio Budapest, miglio per anziani di categoria F, la seconda tris del palinsesto ippico nazionale, 12 al vieto per il tiro del numero 8, Sama, prima fila per Perignone, Opinion Leader, Rio Mother, Riraisoline, Raptor Amnist, Stefano H.P. Romerus, seconda fila Preziosa Caff, Naxos Desi, Ossigeno, Bigi, Spirit, Dasolo e Sirrodo. Nello stacco cerca di emergere Riraisoline insieme a Romerus che è partito forte, molto forte a largo di tutti, poi c'è Rio Model che ha all'esterno Stefano H.P., con Romerus che cerca di scavalcare Stefano H.P., ma quest'ultimo rientra, sbaglia Rio Model, allora desiste Romerus sull'errore e cerca rapida conversione in corda, operazione che riesce a Romerus che va terzo dietro a Riraisoline che ha lasciato andare Stefano H.P. Il primo quarto però è molto veloce, in 28 e 4, con Stefano H.P. leader su Riraisoline, Romerus, poi ancora Raptor Amnist, poi Opinion Leader dalla seconda fila, la risalita di Naxos Desi che offre la schiena Spirit, Dasolo, poi ancora Preziosa Caff e gli altri. Rallentamento abbastanza fistoso, quello operato da Stefano H.P. davanti alle tribune, questo induce alla risalita Naxos Desi che giunge al lato di Romerus, nel frattempo metà gara e in un minuto e cinque decimi per Stefano H.P., seguito da Riraisoline, Romerus, Naxos Desi a largo, poi Opinion Leader, mentre c'è l'errore di Raptor Amnist, per questo Opinion Leader ora è quarta alla corda, ora sta allungando Stefano H.P., il primo giro va via in 1.14.9, nella sua scia sempre Riraisoline, Romerus e poi Naxos Desi che si è accodato, Opinion Leader che prova a venire avanti all'esterno, quindi Preziosa Caff e Spirit, Dasolo. Siamo al paletto dei 1.200 metri, raggiunto in 1.28.4 da Stefano H.P. che prosegue sempre in vantaggio su Riraisoline e Romerus, siamo all'ingresso e letta d'arrivo, con Stefano H.P. in vantaggio su Riraisoline e poi Romerus, Naxos Desi e Preziosa Caff, in vantaggio Stefano H.P. che prova ad ascrollarsi di dosso Riraisoline, quindi Romerus e Naxos Desi, Stefano H.P. sempre in vantaggio, Riraisoline che rimane nella sua scia, più indietro Romerus è sempre in vantaggio Stefano H.P. e va a concludere chiaramente nelle mani di Davide e di Stefano su Riraisoline, mentre Romerus probabilmente sfugge a Naxos Desi per il terzo posto. 6.47 dovrebbe essere l'arrivo, naturalmente ufficioso, della quarta di Capanelle che era anche la seconda tris di oggi. Sul mio cronometro 1.59.2 per Stefano H.P. 1.14.5 la media, forse anche qualcosa meno per il figlio di Varenne con Davide e di Stefano che ha scavalcato al via Riraisoline, anzi dopo 250 metri, riuscendo a contenere Romerus e poi da lì ha avuto buon gioco per vincere sulla stessa Riraisoline. Poi Romerus più indietro al terzo posto sconservando una scarsa testa di vantaggio da Naxos Desi. 6.47 l'arrivo ufficioso della quarta di Capanelle.